E' stato prima multato e poi allontanato dalla piazza dell'ospedale, l'ex parcheggiatore che si è inventato il lavoro di fruttivendolo ambulante. Lui chiede all'autorità di mettersi in regola e poter continuare la vendita della frutta. Allora è successo che i vigili sono venuti e hanno fatto il loro lavoro, come altre volte, sono venuti e mi hanno impedito di mettere la roba. Io purtroppo il mio lavoro non ce l'ho, quindi sto qua e ho insistito a fare comunque l'abusivo. Diciamo pure che sono tre anni che tu cerchi una soluzione legale, cerchi qualcuno che ti fornisca le carte e soprattutto il modo per legittimare la tua attività. Sì, sono tre anni che cerco di... ho chiesto al comune, al sindaco, a qualcuno che sa più altro, se mi dà una mano per legalizzare un po' questa attività di abusivismo. Perché comunque io lo so che sono un abusivo e non vorrei fare sempre l'abusivo. Se mi danno un piccolo permessivo, anche perché i dipendenti di questo ospedale è da anni che mi danno il loro aiuto economico. Medici infermieri dell'ospedale ma anche i negozianti della zona hanno espresso la loro solidarietà nei tuoi confronti. Ieri mattina invece hai incontrato un consigliere comunale di Capaccio. Ieri mattina ho incontrato il grande dottore Petraglia che penso che molti lo conoscono. È una persona eccezionale, quindi mi dà una mano anche lui, come sempre, sia economicamente che come medico, come persona. Mi ha fatto parlare col sindaco di Capaccio e insieme cercano di trovare una soluzione a questo mio problema, cercare di legalizzare questa attività. Se è possibile, se no io sono conguaiati. Quindi il tuo appello politico è quello di darti un aiuto per mettere qualcosa a tavola? È una mano anche pure a me. Mi piacerebbe essere più di un altro paese a questo punto. Forse mi aiutasse neanche io a stare.